Nel calcio si vince, si perde, si pareggia, ma ci sono modi e modi perché quando ti annullano un gol regolarissimo si perde la pazienza, non oltrepassando mai i limiti. E' quanto accaduto ieri nello scontro in chiave playoff tra Palmese e Gera. I calabresi sono in vantaggio di un gol, siamo al 25esimo del secondo tempo e Biancazzurri attaccano alla ricerca del pari. Il gol arriva e lo segna Campanaro, ma l'arbitro Moriconi di Roma annulla per fuorigioco. Le immagini smentiscono categoricamente il direttore di gara. Campanaro non è in offside e dunque il gol è regolarissimo. Sarebbe stato il 3-3. Alla fine della contesa la Palmese vincerà per 4-2, ma quel gol annullato pesa e peserà. Merito alla formazione di Daltorione che ha giocato una grande partita, ma nel calcio sono i particolari che determinano il risultato finale. E alla fine la truppa Biancazzurra ritorna a Gera con le briciole. La cronaca della partita è ricca di emozioni. La Palmese sfiera il vantaggio subito dopo appena pochi minuti e al terzo Dorato fa 1-0. I padroni di casa attaccano a testa bassa e Saitta in alcune occasioni deve superarsi. Il Gera ci prova. Un colpo di testa finisce alto sulla traversa e dopo pochi istanti una difensore allontana sulla linea di porta. Saitta dice no ad un altro attacco Palmese. Ci sono anche le proteste per un presunto fallo in area biancazzurra. Alla trentasesimo arriva il rigore per il Gera. Il fallo di mani in area è evidente. Batte Campanaro 1-1. La Palmese si riversa nuovamente davanti ma il risultato non cambia. Secondo tempo che si apre con il secondo gol Calabro. A realizzarlo è Crucitti. Siamo al quarto. Ma nel Gela c'è il difensore Goliador e Fabio Campanaro che al decimo impatta 2-2. Passano 12 minuti e arriva un altro rigore. Questa volta è per la Palmese. Il tocco di mani è del difensore Chidichimo. Crucitti non fallisce. 3-2. Poi arriva l'episodio contestatissimo. Campanaro, ancora lui, batte di testa Pellegrino ma l'arbitro annulla per posizione irregolare. Il fermo immagine mostra che non è fuori gioco. A nulla servono le proteste dei giolesi. Saitta para una conclusione debole e sul ribaltamento di fronte ancora Campanaro, il migliore dei suoi, sfiora il 3-3. Ciprova Coso vanno su punizione ribattuta con i pugni dall'estremo difensore di casa. Ancora Campanaro ma il palo a negare la gioia della tripletta personale e del pareggio meditato. E alla fine della gara arriva il 4-2. Un risultato che permette alla Palmese di accorciare le distanze dal Gela adesso ad una sola lunghezza e che di conseguenza induce i ragazzi di Pietro Infantino a non demordere contro tutto e tutti.